Buongiorno ragazzi, benvenuti a un nuovo vlog. Mi chiamo Shay e questa è la mia routine mattutina nel dicembre per Vlogmas. Mi sono svegliata intorno alle 7 e mezzo o 8. Poi vado in bagno per essere pronto per la giornata. Prima uso il tonico sulla mia faccia. Poi devo mettere le mie lenti a contatto per poter vedere. Mi lavo i denti e dopodiché uso la mia crema idratante con SPF. Adesso è tempo per pulire la mia camera un po' e fare il letto. Mi piace fare il letto prima cosa al mattino perché mi sento produttiva e pronto per il giorno. Poi accendo una candela e scrivo nel mio diario. Mi piace ascoltare la musica mentre scrivo, quindi ho ascoltato a Christmas Jazz. Scrivo dei miei pensieri, preoccupazioni e obiettivi. Di solito scrivo una pagina, a volte due. Nella cucina faccio il caffè o il tè ma oggi ho voluto tè alla menta. Di solito mia sorella è anche nella cucina, sta lavorando alla sua arte. Quindi parliamo per qualche minuto. Mi mostra che sta disegnando e parliamo di vita, famiglia, amici o cose profonde. Poi ho un po' di tempo per leggere o studiare, quindi leggo un capitolo per il mio libro. Vorrei poter leggere più velocemente ma va bene così, sto imparando. Se ho tempo studio con Busuu per dieci o quindici minuti. Io preferisco studiare da mattina perché dopo il lavoro sono troppo stanca. Mi piace fare una passeggiata perché il tempo è sempre bello qui a Los Angeles, ovvio, e mi piace il sole. Mentre cammino, ascolto la musica o un podcast. Di solito cammino per venti o trenta minuti. Dopodiché devo iniziare a lavorare. Mi siedo alla scrivania nella mia camera e controllo la posta elettronica. Questa è la mia routine mattutina. Grazie per aver guardato il mio video. Vediamo! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!